Sono cominciati oggi e dureranno quattro mesi i lavori di ripristino di messa in sicurezza dei solai dell'Istituto di istruzione superiore Copernico Luxemburg di Corso Caio Plinio a Torino. I lavori che saranno eseguiti dalla città metropolitana di Torino sono stati consegnati all'impresa Edile Europa di Torino per un importo di contratto di 444 mila euro IV esclusa. L'intervento è stato preceduto da accurate indagine finalizzate alla verifica del rischio di potenziale di stacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai e dei controsoffitti. Negli ultimi tre anni al Copernico Luxemburg sono già stati avviati alcuni interventi di bonifica dei controsoffitti per restituire alla scuola aule e laboratori chiusi da tempo e senza interrompere l'attività scolastica. Bisogna dire che poi in questi anni la provincia con intervento prima nell'ala A e adesso con il corpo centrale ci ha messo sempre in condizione di sopportare limitati disagi e di poter continuare tutta la nostra azione. Il primo anno magari occupando e impegnando i laboratori con le aule ma poi riutilizzando questi spazi e adesso con i nuovi lavori e la possibilità nuova che ci si apre di riprendere il cammino verso la crescita e il recupero anche della sezione tecnico-commerciale che aveva visto una certa flessione in questi ultimi anni di attività e di scritti. L'obiettivo che ci siamo dati era quello di destinare tutte le risorse di cui noi potevamo disporre pur in un periodo che resta di grande difficoltà per i bilanci degli enti pubblici di destinare tutte queste risorse sia alla sicurezza dei nostri 160 edifici scolastici sia alla sicurezza dei nostri 3000 km di strade. Questo abbiamo fatto, questo stiamo facendo e questo continueremo a fare. Credo che il risultato tenuto al Copernico come in altre scuole su cui stiamo intervenendo sia testimonianza di questo nostro impegno. Confidiamo che questa determinazione e questa attenzione ai confronti di un bene fondamentale che è appunto quello dell'istruzione, del diritto dei nostri ragazzi ad andare a scuola e a distruirsi in locali idonei e adeguati ci venga riconosciuto anche dalle istituzioni superiori e quindi credo che la battaglia che ci aspetta, l'impegno e gli obiettivi che ci aspettano è quello di fare appunto, di rivendicare quello che è il diritto delle città metropolitane e della città metropolitana di Torino in particolare di ottenere risorse per fare quegli investimenti che sono necessari allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.